È toccato al noto giornalista e volto televisivo Antonio Caprarica aprire l'edizione 2019 dell'ormai storico festival di incontri al Teatro di Verzura, che si svolge a Borgo Ammozzano da lontano 2007. L'incontro, condotto dallo stesso sindaco di Borgo Ammozzano, Patrizia Andreucetti, ha permesso allo storico inviato del Tg1 di raccontare aneddoti e curiosità sulla casa reale inglese. Caprarica, nel corso della sua brillante carriera giornalistica, iniziata all'unità e proseguita a Paese Sera, passando poi in Rai, come corrispondente fisso del Tg, ha girato e conosciuto le realtà di mezzo mondo. Parti calde del pianeta, quali il Cairo e Gerusalemme, successivamente in Afghanistan. A Bagdad ha seguito le vicende della guerra del Golfo, per poi occuparsi, come dicevamo, del Regno Unito, dove ha approfondito la sua conoscenza sul mondo dei reali, al quale ha dedicato il suo ultimo libro, dal titolo Royal Baby, vite magnifiche e viziate degli eredi al trono. Guardando un po' alle vicende umane di tantissimi principi destinati al trono, concludo che l'altra faccia della moneta del privilegio è spesso una profonda infelicità personale e nelle storie di questo libro di storie infelici, di vicende personali infelici, ce ne sono veramente tante. Direi che questo è un volume che si può leggere, offre due chiavi di lettura. Una è quella del racconto di vite, da un certo punto di vista anche terribili, penso a quella che so di Vittorio Emanuele III o, se vogliamo stare a qualcuno più vicino ai giorni nostri, di Carlo d'Inghilterra, il quale, nel caso appena di ricordarlo, sono ormai 70 anni che sta aspettando un evento che forse non si realizzerà mai. Dall'altra chiave di lettura di questo libro è quella più politica, perché in qualche misura è un pamflet contro la monarchia, cioè la monarchia che sopravvive in larga misura, molto più larga di quanto noi immaginiamo, anche ai giorni nostri, è una incredibile lotteria biologica, significa affidare alla pura casualità dei geni il destino di una nazione. Sai, lì la cosa è molto complicata perché se sei fortunato, se sei inglese, se sei fortunato, la lotteria biologica ti regala Elisabetta d'Inghilterra, se sei italiano, se sei sfigato ti capi da Vittorio Emanuele III, risultati che tutti noi italiani ben conosciamo.